Allora, buonasera a tutti, siamo in diretta, benvenuti alla nostra quinta serata della Lanterna di Diogene, questa sera come relatrice abbiamo l'artista e professoressa Angela Viola e questa sera parleremo, essendo in tema anche con la giornata, ovviamente a Festa delle Donne, a Giornata Internazionale della Donna, parleremo di arte al femminile. Allora, prima di partire, di lasciare la parola alla nostra relatrice, vi ricordo intanto di commentare sotto nei commenti del nostro post sulla pagina Facebook, tranquillamente di lasciare le domande a cui cercheremo di rispondere a fine della conferenza, cercheremo di rispondere a tutti e poi vi ricordo i prossimi due appuntamenti, vi ricordo il 15 di marzo l'appuntamento con il professor Storchi con la conferenza sull'affermazione del fascismo a Reggio Emilia a cent'anni di distanza e vi ricordo quella del 22 di marzo con nuovamente nostro ospite Matteo Manfredini sulle religiosità, sulla religiosità nel Reggiano. Rinnovo nuovamente i nostri ringraziamenti come Lanterna di Diogene alla nostra relatrice Angela Viola e vi lascio a lei. Grazie Thomas e grazie anche per l'invito da parte di tua della Lanterna di Diogene. Stasera mi trovo un po' così protagonista di una lezione al di fuori delle aule come sono solita fare tutti i giorni a scuola perché ci siamo trovati quasi casualmente qua ma anche no nel voler proporre questa sera lo sguardo delle donne attraverso il mondo dell'arte. Come diceva Thomas appunto mi presento per chi mi conosce sono Angela Viola un artista che ha deciso di vivere sull'Appennino Reggiano quattro anni fa e stasera voglio raccontare la storia di donne che hanno reso importante anche la storia dell'arte attraverso delle figure che non sono soltanto pittrici ma vedremo anche delle scultrici delle bravissime artiste anche contemporanee quindi vi sentirete anche un po' più partecipi nel farmi delle domande o nel porre delle questioni perché tratteremo dei temi molto cari all'universo femminile. Ho scelto anche di proporre delle figure femminili che non essendo artiste hanno però contribuito allo sviluppo e alla diffusione dell'arte soprattutto moderna e contemporanea. Io a questo punto inizierei a condividere la mia presentazione perché ritengo fondamentale che per poter parlare di arte siano prima di tutto appunto le immagini a parlare per noi. Quindi partiamo immediatamente con quella che è l'immagine di copertina che appunto vede il titolo di arte che è appunto un sostantivo femminile singolare e in copertina vediamo anche se un po' un po' rarefatta un'immagine di un frame, di un video di Gina Pane, una delle artiste moderne, contemporanee di cui parleremo stasera. Prima di introdurre alle donne vediamo anche come la parola arte essendo di per sé un sostantivo femminile nella sua definizione più autentica è appunto la capacità di agire e di produrre. Quindi basata su un particolare complesso di regole, di esperienze conoscitive e tecniche. Quindi anche l'insieme di regole e di procedimenti per svolgere un'attività umana in vista di determinati risultati. Come vedete qui non c'è nessuna distinzione tra universo femminile e universo maschile. L'arte di per sé è universale perché così come gli uomini anche le donne hanno una grandissima capacità di agire e di saper produrre e creare. E soprattutto così quanto gli uomini e tanto qua, quindi tanto quanto gli uomini sono anche in grado di rispettare delle regole ma di crearne anche di nuove e soprattutto sono ricche di conoscenze, di esperienza tecnica e lo vedremo soprattutto nell'esecuzione di alcuni lavori di artiste che a noi praticamente sono quasi sconosciute e i risultati che vengono resi visibili appunto dall'ispirazione, dall'emotività e dall'esperienza di vita di queste donne sono veramente straordinarie. Ovviamente oltre al termine arte ho voluto riportare in questa giornata anche quello che è sostantivo femminile singolare della parola donna che deriva appunto dal latino domina che significa signora e padrona, cioè colei che sa dominare, non inteso nel senso di colei che sia presuntuosa o arrogante o che sia autoritaria, ma nella sua autorevolezza e nella sua esperienza in grado anche di operare, di saper fare senza, lasciatemi dire, dover dimostrare niente a nessuno, nonostante la storia delle artiste donne invece si sia un po' districata tra questo conflitto, cioè quello di dovere erroneamente, dover dimostrare a tutti i costi, di saper valere come gli uomini o a volte più degli uomini, quando in realtà questa accezione di signora e di padrona la vedo più come colei che è in grado di padroneggiare e di saper eseguire, come abbiamo detto prima anche artisticamente, la realizzazione di un'opera. Iniziamo con una delle artiste del Rinascimento, quindi una delle prime artiste delle quali abbiamo notizia e c'è questa citazione di un suo contemporaneo che recita proprio ai suoi tempi, era a quanto pare una scatenatrice di talento. Properzia De Rossi, lasciamo però il suo ritratto, era una scultrice bolognese, quindi è una delle prime scultrici della quale noi abbiamo traccia, una scultrice bolognese del Rinascimento, ne scrive anche Vasari nelle sue vite a vent'anni dalla sua morte nel 1530, è allieva di un incisore e di un medaglista e si fece strada fino al 1524, quando ottenne il suo primo incarico ufficiale, ricevendo per la prima volta lo stesso, almeno da quanto ci è documentato, ricevendo per la prima volta lo stesso compenso dei suoi colleghi uomini. Questa cosa però destò piuttosto non tanto un interesse quanto una gelosione in via da parte dei suoi colleghi uomini, che fecero di tutto per asserire che lei non fosse all'altezza del ruolo che era stata investita. Uno dei suoi colleghi artisti rivali dice proprio, fece tanto il maligno coi operai che alla misera donna fu pagato il suo lavoro un vilissimo prezzo. Properzia, nonostante ottenne questo incarico ufficiale, e vediamo qui l'opera che è presente ancora oggi al Museo di San Petronio di Bologna, non aveva risolto con diplomazia questo attacco da parte di Aspertini. Tant'è che risolse la faccenda a suoni graffi e botte, quindi la faccenda finì davanti alla legge, i contini screzzi le crearono dei problemi sul lavoro e fu costretta ad abbandonare il cantiere. Scusate, torniamo indietro. Lei, come dicevo prima, essendo allieva di un incisore e di un medaglista, riuscì ad ottenere anche dei bellissimi oggetti, delle manifatture di una raffinatezza incredibile e si racconta che all'interno di questo gioiello riuscì anche a scolpire e incidere dei noccioli di pesca. Quindi aveva una grande maestria nell'esecuzione, nell'incisione, tanto da ottenere con dei semplici semi, dei semplici noccioli di pesca, quello che è il risultato che appunto noi vediamo, che è uno dei pezzi più belli della storia dell'arte. Anche qui vediamo come in questo basso rilievo, guardando ad artisti come Donatello o come lo stesso Michelangelo, Properzia fosse allo stesso livello. De sto molto scalpore il fatto che in questa scena, che ritrae Giuseppe, la moglie di Putifarre, la donna sia la protagonista di questo rilievo, dove l'uomo sembra essere già in secondo piano di spalle e di profilo e dove invece vediamo appunto in primo piano una donna con i seni scoperti che è in questa posa anche abbastanza sensuale, che sta uscendo da questo talamo e che sta cercando di trattenere l'uomo. Il fatto che sia stata proprio una donna, proprio all'inizio del 1525, a ritrarre la scena in questi termini sicuramente era una cosa molto singolare e che non era visibile spesso. Un'altra delle artiste che riuscì a imporsi anche nel panorama artistico a lei contemporaneo è l'artista cremonese Sofonisba Anguissola. Nacque nel 1532 e quindi diciamo che nacque in coda alla morte di Properzia De Rossi, figlia di aristocratici che fu guidata anche dalla famiglia ad intraprendere la carriera di pittrice, grandissima ritrattista e quattro delle sue cinque sorelle furono come lei pittrici. Quindi dobbiamo immaginare che a quel tempo il fatto che una famiglia anche aristocratica sostenesse la propria figlia nell'intraprendere la carriera di pittrice, di artista era una cosa assai rara. Figurarsi poi se tra sette figli cinque di loro decisero donne di intraprendere la stessa carriera. Dobbiamo pensare che lei ebbe grandissimo successo durante la sua vita grazie anche a uno scambio epistolare che ebbe Tommaso Cavalieri con Cosimo de' Medici dove in una lettera la quale lui allega due disegni, uno di Sofonisba che vedremo spero più avanti, scusatemi, non ce l'abbiamo. Quindi dove appunto un disegno di Sofonisba venne regalato a Cosimo de' Medici e appunto lo stesso Tommaso Cavalieri si stupì del fatto che insieme a un disegno di Michelangelo ci fosse anche questo disegno di Sofonisba Anguissola che ritraeva una vecchia che giocava con una bambina e lo stesso Michelangelo che venne a conoscenza di questo disegno disse va bene sì è anche facile rappresentare una fanciulla che ride o che viene stimolata dalla nonna mentre si stanno divertendo. Vorrei vedere se lei allo stesso modo è in grado di rappresentare un bambino invece che viene colpito dal dolore o dal fastidio. Il padre di Sofonisba venne a conoscenza di questo aneddoto e invitò la Fia a realizzare questo disegno che noi vediamo che è appunto la stessa sorella di Sofonisba che con il fratellino più piccolo viene ritratta mentre il bambino viene morto da un gambero quindi viene espressa in questo disegno l'espressione del bambino mentre viene infastidito dal dolore. Questo disegno e questa grande capacità di Sofonisba fu appunto fondamentale perché lei iniziò ad avere successo tant'è che arrivò fino alla corte di Spagna la corte di Filippo II dove fu chiamata diciamo ufficiosamente come pittrice di corte ma in realtà ufficialmente figurava come dama della regina insegnante delle figlie anche perché ancora nel riascimento il fatto che una donna potesse rivestire il ruolo di un uomo quindi di pittore di corte era estremamente anomalo quindi non era facilmente accettabile. Lei tra l'altro viaggiò molto quando poi la regina di Spagna morì rientrò in Italia preferì sposare un aristocratico siciliano e ha vissuto per molti anni a Palermo tant'è che fu proprio a Palermo che la Anton van Dijk incontrò Sofonisba quasi 90enne e troviamo in un suo piccolo bozzetto dove prese anche degli appunti e dove fece un piccolo ritratto di Sofonisba appunto lo stesso van Dijk riferisce quanto lui abbia imparato di più sull'arte del colore da questa cieca perché immaginate Sofonisba 93enne praticamente quasi non vedente e dice ho imparato più di più sull'arte del colore da lei che non da tutti gli altri pittori vedenti quindi è anche importante fare questa osservazione come queste artiste donne fossero non solo fossero all'avanguardia ma fossero conosciute anche dagli artisti uomini che a loro volta erano anche riconosciuti in tutta Europa e vediamo qui come nel cartiglio originale van Dijk poi ritraste appunto Sofonisba in questo ritratto da anziana. Subito dopo il rinascimento così come cronologia vuole passiamo alla linguaggio del del barocco però ci riferiamo al linguaggio di quel barocco legato alla pittura del del realismo del verismo caravaggesco e molto probabilmente molti di voi conosceranno la figura la figura la figura di Artemisia Gentileschi che ahimè si conosce spesso per l'accaduto che comunque contraddistingue la sua storia lei è figlia di un pittore di Orazio Gentileschi e perde la madre da bambina e questa cosa la segna veramente tanto e nonostante appunto sia rimasta da sola e abbia dei fratelli maschi che lavorano con il padre all'interno della della bottega si unisce a loro e anche anche la si inizia a dipingere e a dimostrare le sue qualità di pittrice in questo dipinto che noi vediamo lei si ritrae come l'allegoria della pittura e vedete come in in questa posa lei non stia guardando lo stervatore non è assolutamente interessata a mettersi in mostra sta eh piuttosto dimostrando che attraverso l'allegoria della pittura e attraverso quello che presumibilmente il suo ritratto eh lei è presente lei c'è lei esiste questa firma che vuole riportarci eh e che ci vuole sottolineare che nonostante lei sia una donna è in grado di saper fare vediamo come nell'allegoria della pittura questa donna con i capelli raccolti intuiamo che le che stia davanti una tela con questo eh tavolozza di pennelli in mano e come abbia al collo questa maschera dove ehm in piccolo viene incisa la mh parola imitazio perché appunto la maschera e il concetto di imitazione sono mh dei simboli propriamente legati alla pittura mh guardate anche come riesce a dipingere il drappo del del suo vestito che sembra quasi di essere il protagonista in primo piano proprio per eh sottolineare che sì sono un artista ma sono anche una donna e quindi ehm non non posso non esibermi anche dal mostrarmi in tutta la mia femminilità in questo dipinto invece la vediamo dipinta come Santa Caterina perché eh come forse molti di voi sapranno lei eh fu eh vittima di uno stubro eh nel 1612 eh ad opera di quello che doveva essere il suo eh maestro Agostino Tassi che è un mediocre vedutista eh al quale mh appunto anzi al quale il padre affidò eh Artemisia perché prendesse lezioni di prospettiva lezioni di pittura prospettica quindi di paesaggio e di vedutismo ehm Agostino non aveva una grande reputazione si pensa che avesse già mh assassinato la moglie precedente aveva avuto un incesto con la cognata minorenne e quando eh Artemisia rifiutò le le sue avance non si pose nessun problema nell'abusare di lei scoperto questo perché fu eh scoperto proprio da da uno degli assistenti di di Orazio del padre di Artemisia eh fu portato a processo quindi eh lei ovviamente accompagnata eh sostenuta dal padre fu eh forse una delle prime donne eh dalla quale mh punto eh eh dalla quale emergono anche degli atti che eh tuttora eh abbiamo eh del processo per stupro che appunto subì Agostino Tassi a favore appunto di eh Artemisia Gentileschi. Per quanto questa cosa possa sembrare normale a noi oggi quella di processare un uomo perché eh come dire ha abusato eh di una donna in realtà nel 1612 questa cosa non era assolutamente eh normale. Lei ha ha dovuto subire anche eh dei maltrattamenti direi perché durante il processo fu eh obbligata a dimostrare eh che fu suprata quindi eh eh dell'E600 che pubblicamente ehm fu obbligata a mostrare in in aula di tribunale eh i suoi genitali e quindi ehm fu eh sottoposta più volte a visite ginecologiche forzate per dimostrare quello che Agostino Tassi continuava a negare. Fu anche torturata mh considerate che i pittori hanno come strumento fondamentale le le loro mani e fu sottoposta a tortura eh una tortura particolare che era quella di di della eh di stringere in maniera talmente forte i pollici da eh arrivare quasi allo stritolamento e e si dice nei documenti che lei mentre avveniva questo eh questa tortura dei dei pollici delle dita gridò proprio ad Agostino Tassi questa questa è la fede questo è l'anello che che accinge le le mie dita era proprio quello che che volevi. Quindi lei non non si pone neanche nessun problema a dovere eh gridare ad alta voce in tribunale quella che è stata eh la la violenza eh la violenza subita. Vediamo come a partire dal 1612 lei inizia a dipingere dei dipinti che raffigurano donne eh eroine che mh pur di eh lottare per i propri propri valori rischiarono la morte una di queste fu appunto Santa Caterina d'Alessandra che eh vediamo qui rappresentata in una statua ma eh soprattutto nel dipinto di Artemisia con i strumenti del martirio ovvero la ruota è qui non si vede ma normalmente c'è anche una spada perché ehm Santa Caterina d'Alessandra fu sottoposta alla tortura della ruota dentata eh e fu anche decapitata. Qui invece vediamo un un altro dipinto di eh Gioele e Sisara dove appunto Sisara per per poter eh rim aspirare alla alla fedeltà dei dei propri valori eh con l'inganno eh uccide Gioele eh picchiettandogli il il cranio con con un chiodo. E detta così è una una scena se proviamo ad immaginarla non propriamente piacevole però vediamo come nel nel codo di Artemisia tutto sia assolutamente composto come la determinazione di questa donna che sta compiando il gesto sembra quasi eh non essere eh quindi è coinvolta emotivamente eh o forse neanche mh eh coinvolta da da un senso di colpa però lo sta facendo per un valore e quindi crede fermamente che quello che lei sta facendo sia giusto. La vediamo in tutta la sua ehm eleganza e femminilità in questo eh vestito di vestito di molto provente di seta giallo con questi drappi trasparenti con questa acconciatura ben curata lei nel volto ha questo eh sorriso quasi di soddisfazione perché sa che da lì a poco eh riuscirà eh ad ottenere il suo obiettivo. Eh la determinazione eh di mh Sisara non è eh solo la determinazione di un'eroina eh della della letteratura ma è anche la determinazione di Artemisia che eh oltre a subire la violenza subì anche mh eh dei eh un trattamento poco felice durante il processo e nonostante ciò lei riuscì ad andare avanti eh il eh fortunatamente nonostante i tempi mh non fossero tra i più rosei Agostino Tassi riuscì anche a farsi qualche mese di galera uscendo poi eh commettendo altri reati eh fino alla fine. La cosa eh mh più triste è stato che il il padre Orazio ad un certo punto eh stresse di nuovamente legami con Agostino Tassi eh passando un po' sopra la vicenda che aveva appunto eh colpito la figlia. E qui però che vediamo una delle delle scene più eh forse più violente, più cruente della pittura di di Artemisia. Questa è rappresenta la scena di Giuditta e Oloferne e della schiava che aiuta Giuditta a decapitare Oloferne dove appunto vediamo come lei si concentra questo tutto il suo dolore e tutta la determinazione che l'ha portata appunto ad affrontare il processo ma soprattutto ad uscirne in parte vincitrice. Anche qui vediamo come eh l'abito giallo quindi ben ben curato eh sia accompagnato dalla figura poi di questa donna anche essa nonostante sia noncella con vestita ben curata che ha un un atteggiamento di eh aiuto nei confronti eh di quella che eh eh giuditta in questo dipinto ma che molto probabilmente anche qui eh ritrae eh nel volto la figura di Artemisia. Vediamo come lei è partecipativa e coinvolta in in quest'azione. Non si eh non prende le distanze dall'azione che sta compiendo come vedremo poi nella versione di di Caravaggio di Giuditta Loferne dove Giuditta sembra veramente prendere le distanze da da un atto senza senza pietà mentre nel caso di Artemisia vediamo come lei si ehm si ehm si ehm si immerge in quest'azione. Quindi eh metta passione, sentimento, rabbia e anche soddisfazione nel 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 riuscire a decapitare quello che è il carnefice in questo caso eh Oloferne perché vediamo anche come nel ritratto di Oloferne vi sia eh una somiglianza a quello che è il volto di Agostino Tassi. Il sangue scorre sulle lenzuola eh fuoriesce eh dal collo di Oloferne e mh lei non si preoccupa neanche del fatto che questo stesso sangue possa sporcarla. Quindi è pienamente protagonista di quello che le è accaduto. Ehm vorrei aprire anche una parentesi rispetto a questo a questo tema. Mh perché oggi essendo una giornata nella quale si celebra la la donna a livello internazionale nella quale ci si ripromette che da oggi in poi non vi siano più eh delitti o violenze sulle donne ehm è veramente un un monito e un manifesto a eh a reagire e a lottare e essere determinate nel momento in cui eh subiamo delle delle ingiustizie. Ovviamente nessuno chiede che che vi sia una risoluzione capitale come quella di di Oloferne. Mh assolutamente no. Ma le l'esempio di Artemisia è proprio l'esempio di una donna che in una condizione storico sociale e culturale eh veramente difficile eh è riuscita a farsi valere e a diventare una delle delle effettrici più eh rinomane rinomate scusate e riconosciute anche mh ai suoi contemporanei. In questa in quest'altra mh slide vediamo anche un altro dipinto di Artemisia Gentileschi sulla destra che ritrae Susanna e i vecchioni questa giovane fanciulla che viene importunata da due anziani eh e che sta cercando in tutti i modi di eh allontanare eh coloro che la stanno importunando. Tra l'altro nel nel racconto oblibico si dice che i due vecchi, i due anziani minacciarono ragione di accusare al marito di di tradimento o di essere una donna poco di buono eh nonostante fossero stati loro a eh di infortunare la donna mentre era in un suo momento privato. Anche qui vediamo come l'argomento fosse eh come dire molto sensibile ad Artemisia e molto probabilmente anche lì sta non solo stava esprimendo la sua esperienza di donna in quanto eh violata ma in qualità di donna. Nel senso sta qui sta descrivendo un aspetto che eh molte donne e me vivono ancora oggi o tendono a subire ancora oggi proprio perché non vi è un rispetto eh della persona in quanto donna in quanto corpo eh femminile. Nel dipinto a destra vediamo un'altra artista che è Judy Leister che si ritrae mentre in una scena domestica sta ricamando e vediamo lì eh nuovamente la presenza di un uomo che sta cercando di interrompere il suo lavoro e comunque di disturbarla in maniera anche eh fastidiosa. Quindi vediamo come il tema non è sicuramente nuovo, non è eh un tema eh solamente a noi contemporaneo ma eh questi dipinti ci descrivono come come la donna ha sempre un po' vissuto la sua condizione soprattutto eh in contesti storici dove mh non avevano nessuna voce nessuna nessun pretesto anche per poter farsi sentire e eh ho voluto anche scusate intanto prendete l'acqua ho voluto anche riportare eh questi due dipinti di artisti uomini eh a sinistra abbiamo Paul Jocca e Mbaudry e a destra invece abbiamo Jacques David in eh in uno dei suoi celebri dipinti che appunto ritrae eh la morte di Marat. L'ho messo a confronto perché l'artista eh Baudry eh nel 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 caso del suo dipinto ritrae la stessa scena ma dal punto di vista femminile eh per chi non lo sapesse Marat venne assassinato proprio da una donna che si dice eh compì questo delitto senza compici quindi eh mossa da dai suoi valori eh rivoluzionari e uccise Marat perché si pensa che che fosse un traditore appunto della della rivoluzione. Vediamo come nel nel le due scene sono praticamente lo lo stesso episodio visto da due punti di vista diversi. Giorgio David ci presenta Marat come un martire come una vittima che è stato ucciso eh che che aveva dei valori e sembra quasi un po' ritrarre mh che non me ne voglia nessuno la figura di uomini che spesso si vogliono eh ritrarre loro come vittime eh magari in alcuni casi lo sono in altri casi magari no e quindi eh c'è sempre questo rimando alla figura della donna come colei che ehm crea dolore nell'uomo che crea disperazione che può portare alla morte eh quando in realtà queste queste donne compresa Charlotte Gordè che appunto è nascosta dietro questa tenda con lo sguardo persone il vuoto che è assolutamente consapevole di quello che ha fatto eh ma è anche consapevole del motivo eh per cui eh è stata mossa da 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 quest'azione da questo atto. Ehm mi piaceva proprio eh mettere a confronto in in questo caso sono due artisti eh uomini eh che appunto eh ritrangono la stessa scena da due punti di vista diversi uno prettamente maschile che è quello di Jacques-Louis e uno eh più femminile invece da parte di Paul Gioca in Bordi. Un'altra artista che eh invece eh un artista d'oltrealpe eh che eh con grande sorpresa ho conosciuto proprio attraverso questa ricerca eh e Clara Peters è un'artista olandese eh una delle prime artiste pittrici che si occupò prevalentemente di eh di natura morta eh ed era talmente brava dal punto di vista tecnico nel riportare fedelmente dettagli particolari riflessi delle bottiglie degli argenti delle stoviglie e eh degli elementi vegetali eh vorrei far notare in questo suo ritratto che è accompagnato appunto da delle stoviglie, dalle monete o eh da un basso di fiori la bolla di eh sapone che eh appunto posta a al centro. È una delle prime artiste donne che inserisce il ritratto all'interno della natura morta, dell'autoritratto all'interno della natura morta. Eh lo spirito di queste donne era quello proprio di affermarsi, di voler far valere la la loro posizione di donna in in un campo eh di predominanza maschile. Eh quindi nonostante ehm siamo nel mille e seicento quindi quasi contemporanea ad Artemisia Gentileschi eh le donne sono ancora tra virgolette costrette a dover imporsi, dover fare, dover evidenziare il fatto eh che loro esistono, che loro ci sono. Tant'è che la stessa Clara Peters quando si ferma, si firma all'interno dei suoi dipinti, lo fa con eh grande raffinatezza e mh questo dettaglio vi fa eh vedere come eh la sua maestranza, proprio la sua eh capacità pittorica fosse veramente mh sublime. Eh consentitemi questo questo aggettivo, la il questo coltello con questo manico intagliato e inciso in argento porta sul fianco il nome e il cognome eh di Clara. Eh come a volere proprio mh sottolineare sempre la eh sua presenza eh presenza. Anche Artemisia, anche Sofonisma eh firmavano eh i loro dipinti. Una delle cose eh particolari di eh di Clara era quella di mh far vedere le eh nature morte all'interno di questi piani sono più tipici della natura molte barocche d'oltre Alpe ehm dal basso. Quindi ha cambiato anche qui un la prospettiva delle delle nature morte. E come vedete sulla sinistra se riuscite a vedere bene. Vediamo come eh all'interno di una delle bolle del eh di questo calice eh si è ritratta proprio Clara con i pennelli e la tavolozza. Eh si scorge anche da queste pennellate molto probabilmente quella che sembra una finestra ed è molto particolare perché lei si inserisce viva come pittrice che crea all'interno di quella che apparentemente è una natura morta ma che eh nella nella sua stesura pittorica dei dettagli eh sembra quasi di non riuscire mai a distogliere lo sguardo dal dipinto perché eh non è fisso, è mobile, riusciamo sempre a muoverci in eh in piccoli dettagli diversi. Se eh vogliamo restare nei paesi olandesi e quindi d'oltre Alpe un'altra artista donna che eh ho scoperto con grande stupore è Joanna Corten. Eh i suoi contemporanei eh la definiscono una delle artiste più importanti eh a livello europeo. Era l'artista donna che costava più di Rembrandt. Eh si dice che i suoi eh disegni adesso vedremo con che tecnica ehm lei operava costavano fino a tre volte tanto. Quello che era uno dei dipinti più eh famosi di Rembrandt che era una ronda di notte. Se osserviamo questo piccolo eh disegno in realtà quello che a noi sembra un disegno non è altro che eh della carta intagliata. Quindi tutte eh le parti che eh sono in rilievo che sembrano in rilievo bianche in realtà sono carta tutto quello che vedete in nero in realtà è il vuoto il negativo e la parte che che è stata eh rimossa abilmente con eh delle forbici eh da ehm da Johanna. Eh provate ad immaginare che eh artisti e collezionisti da tutto il mondo eh giungevano in Olanda per poter comprare uno eh uno dei suoi disegni eh o eh quelli che possiamo definire disegni perché in realtà lo sono che purtroppo sono andati per la maggior parte sono andati perduti proprio perché eh il la la tecnica essendo così fragile e così ehm ehm su un supporto talmente delicato che è molto probabile che moltissimi dei 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 suoi lavori siano dati perduti eh per questo motivo. Chiederei anche a Thomas se ci sono dei commenti oppure ci sono delle domande prima di passare a un altro aspetto dell'arte al femminile che invece è più vicino ai nostri tempi. Allora per adesso io non eh non ne leggo, leggo però delle delle risposte eh sull'interesse insomma che sta portando i quadri che hai portato sino ad ora. Quindi per ora non ci sono di domande però eh è partecipata. Ok dai passiamo allora a mh ad altre artiste e anche altre donne che a partire dalla fine dell'ottocento quindi quella che eh comunemente viene definita l'arte moderna eh direi eh hanno eh hanno come dire mh hanno fatto sì che eh l'arte che poi è diventata la nostra arte contemporanea eh ci eh regalasse per fortuna eh eh le opere ma soprattutto ci restituisse dei linguaggi nuovi e eh prettamente femminili. Alla fine dell'ottocento una delle delle una delle correnti più 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 rinomate, più importanti, più conosciute è sicuramente l'impressionismo e quando pensiamo all'impressionismo pensiamo a Renoir, pensiamo a Pisarò, pensiamo a Monet, pensiamo a tutti questi questi grandi uomini che hanno fatto la rivoluzione dell'arte del ventesimo secolo perché con l'impressionismo ehm la visione delle della realtà viene totalmente modificata e è una rende visibile quello che vediamo attraverso la percezione, attraverso la luce e soprattutto attraverso l'uso del colore. Eh forse pochi sanno che tra questi impressionisti la modella di eh Monet che che ritrae appunto in questo dipinto è Berthe Morisot. Eh anche ella è un'artista impressionista poco conosciuta eh faceva parte del del circolo degli impressionisti anche se i pregiudizi del tempo non ehm no non non fecero mai eh in modo che lei eh si sentisse accolta all'interno di questa cerchia di artisti che erano soliti eh ritrovarsi eh ritrovarsi nei caffè letterari eh di Parigi o incontrarsi magari durante il giorno per dipingere in plenare. Quindi eh anche lì nonostante siano passati tantissimi anni dal dalla figura di Sofonisbo di Artemisia non era visto di buon occhio che era una donna uscisse col cavalletto con i suoi colori e con le sue tele e dipingesse all'aperto insieme ad altri uomini. Eh provate ad immaginare eh pochi anni prima queste sono appunto foto d'epoca che ritraggono eh Berk Morisod è una bellissima donna con questo sguardo malinconico che che vediamo anche nei dipinti di Monet che eh non dipinge ehm in maniera differente rispetto a tutti gli altri impressionisti. Eh decidere liberamente mh di esercitare mh per passione ma soprattutto per professione il mestiere o la professione di di pittrice o di artista. Eh pochi anni prima Manè eh dipinse la colazione sull'erba e la cosa che adesso più scalpore eh fu mettere in primo fu il fatto che l'artista mise in primo piano una donna nuda eh insieme a eh due uomini seduti accanto a lei che facevano colazione sul prato eh vestiti. Eh quindi provava di immaginarci nella cultura di fino ottocento per quanto stessero cambiando le cose come ancora mh ci fossero appunto dei dei conformismi tali da non permettere alle donne di di esprimersi liberamente. Ma nonostante ciò anche eh eh la Morisot ehm non non fu mai una un'artista superficiale. Lei si dedicò totalmente alla pittura e i risultati eh che che ci giungono a noi delle delle sue opere non hanno eh nulla da invidiare ad artisti come eh Monet o Pisarò o o lo stesso Renuara. Quindi iniziamo ad avere già uno sguardo diverso rispetto alla figura eh femminile nell'arte. Quella della donna che sta cercando di emanciparsi e non possiamo che eh parlare di eh una donna eh piuttosto particolare totalmente emancipata e libera e determinata rispetto a quelle sono state le sue scelte sia dal punto di vista lavorativo che è anche sessuale perché non lei non ha mai nascosto questa sua eh eh libertà nel nel volere sperimentare ma anche nel nel volere frequentare eh anche delle donne della della delle quali tra l'altro lei si si innamorò perdutamente e mh di sposare anche degli uomini che ehm le garantirono anche una una stabilità economica eh tra l'altro uno dei suoi ultimi mariti eh sottoscrisse con lei un patto dove lei era eh dove lei poteva essere libera così come poteva esserlo lui eh e soprattutto eh eh rinnegò anche di avere una figlia eh per poter essere libera di esercitare la sua professione di artista in in totale libertà. Eh quindi qui si apre anche un altro capitolo ehm che riguarda ehm che riguarda prettamente le donne e le donne artiste che è quello anche del ruolo di moglie e di madre che nel caso di Tamara Dell'Empicca è un caso molto particolare perché appunto lei non non si pose mai eh dei limiti nel nel volersi esprimere nel voler essere donna a 360 gradi. Ebbe abbastanza giovane questa questa figlia che quando crebbe eh diventò comunque una una giovane donna eh e accompagnandola ad una mostra eh eh Tamara pensando che Lisette potesse un attimo oscurare la sua figura di di donna eh negò il fatto che fosse la figlia la la identificò come come sorella. Quindi lei non nascose mai il fatto di eh di voler essere prima di tutto un artista eh e dopo forse anche madre e dopo forse anche moglie. Qui la vediamo nel nel suo giardino mentre sta dipingendo una delle 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 sue opere eh alcuni dei suoi colleghi contemporanei pensavano che una donna non non potesse dipingere eh un corpo femminile come quelli di Tamara tant'è che non credesse eh credetero all'inizio eh che che dietro i dipinti di Tamara ci fosse una donna non 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 potevano neanche spiegarselo eh come eh una donna potesse ritrarre le donne stesse con con questa sensualità e con questa pelle talmente liscia che eh mi viene da dire è eh la pelle che attrae il desiderio di un uomo nel momento in cui la vediamo in una cosa di questo tipo e se pensiamo che Tamara aveva anche una eh un orientamento sessuale verso eh le donne quindi verso lo stesso sesso eh vediamo come lei riusciva a trasmettere questa grande sensualità proprio perché anche lei eh ne era attratta e lo faceva in assoluta eh libertà. Tra l'altro eh le le sue opere che sono spesso inflazionate perché eh le vediamo mh un po' come le opere di Frida Kahlo eh o di altre artiste eh riprodotte su tazze e magliette e eh tanti altri gadget non so se Tamara o Frida saranno mai d'accordo di queste scelte di marketing eh però considerate che questo è uno dei suoi eh dipinti più famosi e il ritratto di di Tamara all'interno di questa Bugatti di colore verde. Ehm siamo in un periodo in cui eh le le donne iniziano a eh ad acquistare la loro indipendenza anche attraverso lo status di eh donne che sanno guidare un'auto. Eh tra l'altro il New York Times ehm come potete leggere elesse questo autoritratto di Tamara alla guida della sua Bugatti verde a simbolo della nuova era dell'automobile. Un'era nella quale le donne si sono rivelate fin da subito grandi protagoniste. Cioè si sono rivelate protagoniste anche nel nel mercato dell'arte nell'era dell'automobile. Tant'è che negli stessi anni eh ovvero nel 1927 nell'immaginario femminile eh l'auto eh era stata eh sinonimo di libertà. mi viene anche da pensare che paradossalmente per alcune donne oggi eh ancora sia così che il l'auto eh sia lo status symbol del dell'essere indipendente o dell'essere libera. Ehm mi permetto di fare questa osservazione perché eh anch'io quando eh ho dovuto eh chiedere eh la patente e quindi un'auto per poter essere libera indipendente ho dovuto ruotare veramente tanto. Eh e quindi questa cosa mi mi fa sorridere perché non è un aspetto eh strettamente legato a una realtà del degli inizi degli anni trenta ma eh sembra quasi che anche se in maniera molto sottile ehm e nascosta sembra quasi che esista ancora questo questo retaggio culturale del eh del dello status symbol legato al mh alla libertà, la conquista della libertà anche soprattutto dalla parte delle donne. Eh ho voluto inserire mh eh all'interno di questa diapositiva la fotografia di questa donna ventiquattrenne Claire Nostin che fece il giro del mondo nel millenovecento ventisette con la sua Adler standard impiegando due anni e percorrendo quasi quarantasette mila chilometri. Forse ancora oggi, forse no, non ce ne stupiremmo eh pensare che una donna possa viaggiare liberamente con la sua auto e e fare migliaia di chilometri semplicemente per il gusto di farlo. Immaginate ehm che forma di indipendenza eh di eh autonomia potesse proprio trasmettere eh proprio all'inizio di degli anni trenta. Per collegarci a quelle che sono le figure femminili che si sono mh prese la libertà di esprimere la propria personalità e voler essere artiste, scrittrici eh scultrici a trecentosessanta gradi e di voler essere anche libere di eh eh di amare mh donne senza che mh senza preoccuparsi del dei pregiudizi eh eh nonostante gli anni in cui vissero erano veramente difficili eh ho voluto inserire all'interno di questa presentazione anche la figura le figure di tre donne che hanno contribuito alla alla promozione dell'arte a loro contemporanea. Eh una di queste è Gertrude Stein che mh nel 1903 si trasferì a Parigi eh ovviamente lei intraprese una carriera letteraria e il suo profilo è quello di una donna assolutamente libera senza nessun tipo di condizionamento vorrei dire eh ed era anche una profilica eh scusate prolifica collezionista d'arte. Eh grazie a lei eh artisti come Matisse e Picasso eh entrarono a far parte di quello che era il mondo dell'arte parigino negli inizi del del novecento. Quindi considerate che lei si trasferì a Parigi nel 1903 e Picasso doveva ancora dipingere da Maselle Damignon quindi eh doveva ancora pubblicare quello che era il manifesto eh il manifesto eh cubista. Gertrude in in questa foto la vediamo ritratta con ehm alle spalle riflesso il il dipinto celebre che eh fece per lei eh Picasso che la ritrae in questa sua eh compostezza ma soprattutto nel nella sua imponenza non soltanto fisica ma anche di di donna eh forte che fino alla fine ha eh non ha neanche lottato ha si è semplicemente presa i suoi spazi e i suoi tempi eh e ha vissuto la sua vita fino in fondo soprattutto dal momento eh in cui eh conosce quella che sarà la sua compagna di una vice che è Alice Bittorglas eh si conobbero mh si innamorarono e restarono insieme fino 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 alla fine fino a quando appunto Gertrude non non morì eh avevano questo rapporto simbiotico ed empatico eh Alice continuò ad amare Gertrude fino eh alla fine nonostante eh eh la Stein appunto ebbe anche eh delle occasioni per per tradirla ma eh considerate che all'interno della della loro casa che poi era un ricchissima collezione di di arte a loro contemporanea eh spesso si organizzavano delle cene perché entrambe erano amanti amanti del cibo del della buona tavola del mangiare del bere eh ospitavano in casa eh artisti come eh Picasso e Matisse conoscevano i loro gusti tra l'altro si dice anche che eh quando Picasso andava a mangiare a casa di Gertrude e Alice era ehm a dieta stretta quindi eh loro preparavano a Picasso dei piatti eh sani e salubri perché lui doveva comunque rispettare una dieta per potersi eh mantenere in forma quindi pensate il l'ambiente e la e anche la eh particolare eh la particolare condizione culturale totalmente libera che ahimè oggi è difficile non per via del covid ritrovare anche in in altri contesti e e non potevo che citare quella che forse è conosciuta prevalentemente per il suo cognome perché Guggenheim ci riporta ai al museo eh che non è altro che l'esposizione in tre grandi città Venezia New York di quella che è eh stata la collezione di Peggy Guggenheim eh anche lei eh un personaggio veramente particolare lo possiamo già intravedere da questa fotografia eh su eh immagino una gomma a Venezia con i suoi due cani e questi occhiali da sole e questa pelliccia eh totalmente stravaganti scusate se devo un'intento eh eh anche che lei come nel caso di altre donne eh hanno vissuto ehm dei lutti da bambini quindi o da da bambine hanno perso il padre hanno perso la madre nel 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 particolar caso di eh Peggy Guggenheim ad esempio suo papà morì sul 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 Titanic eh molto molto giovane aveva lei aveva tredici anni quando il padre appunto morì eh sul transatlantico ed ed è ridito ho tutti i soldi del padre aveva comunque meno soldi rispetto ad altri componenti della famiglia però eh gli altri componenti della famiglia non avevano sicuramente eh il suo intuito e la la sua cultura e la sua lungimiranza tant'è che dobbiamo eh a lei eh non soltanto la collezione di arte contemporanea che possiamo visitare tra Venezia, Bilbao e New York ancora oggi ma mh lei riuscì intanto si si ribellò lo stile di vita aristocratico e quando nel 1921 si trasferisce a Parigi lei è assolutamente meravigliata dal mondo bohemian eh lo condivide intimamente con donne e uomini quindi lei assolutamente libera anche da questo punto di vista eh ed è a stretto contatto con Marray con Joyce con Ezra Ponde quindi ehm eh è stato proprio a Parigi che il suo amore per il sesso e per l'arte viene totalmente risvegliato senza nessun tipo di condizionamento quindi vive in assoluta libertà quella che la quelle che sono semplicemente le le sue passioni eh di donna ma di di persona prima di tutto quando poi si stabilì a Londra nel 1938 aprì una galleria e nella vita breve di questa galleria quindi in un anno e mezzo ehm tenne delle mostre personali di eh e tra queste ci fu la prima mostra eh personale di Kandinsky quindi lei aveva un intuito e un uno spirito di osservazione nel comprendere quelli che eh noi o per noi oggi sono dei grandi artisti del dell'arte moderna ma che allora appunto non erano molto compresi dal pubblico e eh figure come Peggy Google sono state fondamentali perché queste opere ehm fossero messe a disposizione a conoscenza di di tutto il mondo e quindi le le dobbiamo veramente un grande ringraziamento eh perché ci consente ancora oggi di di viaggiare eh le più grandi città e di poter visitare dei musei all'interno dei quali ci sono delle collezioni di arte moderna e direi anche contemporanea eh che lei ha eh preso con sé che ha che ha sostenuto e che ha eh con la quale ha contribuito anche alla alla diffusione di di questi nuovi eh linguaggi mal compresi o incompresi della maggior parte del del pubblico adesso qui la vediamo ancora eh in queste sue pose all'interno dei dei suoi appartamenti con alle qui lo vediamo ad esempio qui la vediamo ad esempio ritratta con eh un evidente opera di Calder e alle spalle eh un'opera di Picasso quindi immaginate che lei eh in casa aveva una collezione veramente di di centinaia centinaia di opere tra l'altro ehm prima del dell'avvento della seconda guerra mondiale nel 1939 a Parigi mh andò ad acquistare delle opere eh per il museo e lì si rese conto che eh iniziava ad esserci una sensazione di panico diffuso proprio perché la situazione non era tra le più eh più belle soprattutto dal punto di vista eh politico ehm quindi vedendo questo panico nella comunità di Avanguada lei decide di acquistare un quadro al giorno eh per la modica cifra di quarantamila dollari che per un'oristocratica del tempo magari mh non erano tantissimi riesce ad acquistare centoventicinque pezzi di quella che era eh la sua arte contemporanea e di quelli che sono eh in realtà artisti che noi oggi abbiamo la possibilità di eh vedere in quelli che sono i musei dedicati eh dedicati a lei. Tra l'altro eh artisti come Pollock o Mondrian videro anche eh la la il successo se non fosse stato per Peggy Guggenheim che eh scrittura un contratto a Pollock forse se Pollock non non sarebbe così famoso e vedremo anche grazie a chi Pollock eh riuscì a sostenersi e ad essere anche riconosciuto eh come eh esponente del dell'astrattismo eh americano. Un'altra donna quindi passiamo dall'estero per rientrare in casa nostra è eh Margherita eh Sarfatti eh in origine Grassini di origine ebrea mh nasce nel 1880 e eh molti a me la ricordano semplicemente perché era l'amante e la compagna di Mussolini. Lei in realtà era una personalità molto attiva eh brillante e eh una persona colta eh che fu ehm coinvolta eh da 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 questo grande amore che aveva nei confronti eh di Mussolini che mh non abbandonò quasi mai lo seguì e lo sostenne scrivendo anche dei testi per per Mussolini fino a quando eh non sposò le idee eh scusate non sposò le idee naziste eh e quindi lei fu costretta ad abbandonarlo e ad abbandonare il paese perché sarebbe stata a rischio nonostante si convertì al cattolicesimo e eh visse in Italia per praticamente da sempre eh rischiava appunto di essere perseguitata dai nazisti per le sue origini ebree. Eh e fu lì che è venito gli voltò le spalle eh e lei eh non viene mai ricordata per il contributo che che diede all'arte italiana di di quel periodo. Eh apprezzava la pittura del futurismo pur non eh sposandone eh sposandone le idee più assolute eh promosse artisti come Funi e Sironi che le dedicarono poi ad un certo punto eh anche delle requie la vediamo ad esempio alla diciassettesima biennale di Venezia del 1930 dove abbiamo eh Felice Casorati poi abbiamo appunto al centro Margherita Sarfatti e abbiamo Oietti, Malaini e Cataldi quindi artisti che comunque in quel periodo lei riconobbe come ehm grandi esponenti dell'arte eh italiana quindi eh anche a lei va un grandissimo ringraziamento. Qui la qui la vediamo ritratta da Sironi in un dipinto del nel 1916 eh per lei Sironi era un stato uno degli artisti nel novecento eh tra i più ricchi e complessi il più moderno di questi novecentisti eh chiamandoli così un po' anche in senso dispregiativo mentre Adolfo Wilt eh lo scultore che mi auguro conosciate tutti eh la la ritrae in questo in questo ritratto appunto al 1930 eh Margherita lo definisce il primo maestro dell'arte del marmo che abbia oggi l'Italia quindi stiamo parlando comunque sempre tra gli anni fine degli anni trenta inizio degli anni quaranta lui eh le dedica questo ritratto e le lo ringrazia scrivendo che sono molto commossa dalla sua delicata pensuosa e forte interpretazione di me come mi ci ritrovo come mi ha capita bene amico e artista impareggiabile quindi il suo interesse per l'arte non era legato a degli interessi economici era semplicemente legato a una passione che ha portato da sempre con sé ed è veramente triste che non venga ricordata per questo suo aspetto ma semplicemente per la storia d'amore con Mussolini che fa tanto Novella 2000 scusate se faccio questo tipo di di paragone proprio ehm eh legato a questo aspetto delle artiste che sono ehm eh state tramandate ehm tramandate nella nella lettura eh del loro linguaggio nel nell'esperienza delle loro vite prevalentemente legate a un uomo e quindi a una storia d'amore non potevamo eh citare che anche Frida Kahlo ehm anche qui la figura di Frida è stata svenduta ehm lo possiamo dire eh nella riproduzione massiva di eh suoi dipinti o suoi ritratti o sue riproduzioni o rivisitazioni eh su qualsiasi supporto si possa immaginare dalle lenzuola alla tazza la borsa alla maglietta ehm e lei ehm anche lei non non penso che avrebbe condiviso questa forma di marketing della sua immagine eh ed è una delle donne che viene ancora oggi eletta simbolo delle dell'indipendenza della determinazione eh delle donne un simbolo che viene portato eh spesso durante questa giornata di di commemorazione no di ricordo che anche noi a livello internazionale esistiamo e eh come forse sapete lei ha vissuto una eh un'infanzia piuttosto piuttosto eh importante era affettata da una malattia eh che eh la portò a l'amputazione di una gamba a 18 anni ebbe una un incidente in autobus che praticamente l'ha costretta a quasi 32 interventi nell'arco della sua vita aveva una sorta di 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 struttura che le teneva in in piedi la colonna vertebrale con questo busto con la quale mh dovette vivere tutta la vita ma nonostante ciò in quello che può sembrare un il limite assoluto per poter condurre una vita normale eh e considerate che siamo sempre eh agli inizi del del novecento eh lei riuscì a eh rimporsi nel panorama artistico ma anche dell'attivismo eh socialista del del sudamerica perché eh considerate che lei si è sempre spesa per i suoi ideali e per quella che era l'unico mezzo di espressione e ovvero la sua la sua pittura lui lei fa un eh come dire un un'affermazione piuttosto piuttosto importante perché dice che io nella vita ho avuto due grandi incidenti il primo fu quando un tram mise al tappeto ed è stato appunto l'incidente di cui parlavamo prima e l'altro fu Diego Diego Rivera che quest'uomo che eh da dai dai loro amici veniva definito l'elefante perché era un un grande uomo al suo fianco eh che si innamorò perdutamente di lei che l'ha tradita talmente tante volte da portare frida alla disperazione e all'esasperazione ma nonostante ciò eh lei continuò ad amare quest'uomo lo sposò anche una seconda volta nonostante venne tradita dal da Diego con la sorella con la sorella con la sua sorella e eh cercò in tutti i modi di eh mettere in in evidenza eh la sua condizione interiore con questi che sono dei dipinti che non possiamo collocare non possiamo etichettare in nessun modo non possiamo definirli surrealisti non sono cubisti non 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 esiste uno stile se non quello eh di Frida noi la vediamo qui ad esempio eh ritratta eh come se fosse riflessa uno specchio dove lei si riflette a sinistra come eh vista di spalle a volta questo lenzuolo su questa barella eh che poi non è altro che il letto sulla quale lei ha vissuto praticamente tutta la la sua vita con queste incisioni sulla schiena che eh rimandano alle cicatrici appunto che lei che lei aveva dall'altra parte invece la vediamo eh come una eh quasi come una madonna seduta su questo trono che è vestita di rosso con i costumi eh tipici e e che tiene questo standardo eh che 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 dice proprio albero della speranza mantenimi forte mantenimi solida eh mantenimi sempre eh in piedi lei riusciva a stare seduta eh grazie proprio a a questa colonna di metallo che la che teneva in piedi la che teneva in equilibrio la sua colonna vertebrale eh grazie a questo gusto dove in questo ritratto vediamo eh essersene totalmente eh liberata. Lei eh nel rapporto con Diego eh ovviamente ha espresso più volte il desiderio di diventare madre quindi a differenza di altre donne così come abbiamo visto con Tamara e come poi vedremo anche con altre artiste eh a differenza di altre donne eh ha espresso eh il desiderio di diventare madre ma piuttosto ma purtroppo la sua eh condizione fisica mh non non lo permise perché aveva il mh le ossa del bacino talmente lesionate che non avrebbero mai potuto sostenere il peso di una di una gravidanza nonostante ciò eh eh ebbe tre eh gravidanze ovviamente interrotte e in questo dipinto vediamo eh come eh si descrive senza mezze misure eh come eh la donna che eh ha legate a sé dei desideri e eh dei simboli e delle condizioni chiare quindi non non lascia nessuna eh libera interpretazione è è chiaro il il dolore e la sofferenza che eh hanno eh determinato in in nella vita di questa donna lei non non ha assolutamente nessuna vergogna del suo dolore delle sue paure e delle sue esperienze lei le dipinge semplicemente su queste tele eh e rende visibile quella che è la sua condizione una forma di esorcismo è una forma anche di metabolì di metabolizzare quello che molto probabilmente altre donne o altri uomini non sarebbero stati in grado di in grado di sostenere lei fino alla fine è riuscita a vivere questa condizione e a vivere la sua vita eh totalmente a pieno il suo amore eh malsano se vogliamo nei confronti di Diego la sua vita e la sua eh forma di attivismo si dice che lei è scesa in piazza durante eh una delle manifestazioni con con il letto cioè la portarono con con tutto il letto perché lei non era in grado di muoversi quindi non aveva mh per lei era come se non ci fossero limiti ed è così che le sue opere eh ci vengono mostrate da lei sembra che nelle sue rappresentazioni non ci siano confini non ci siano limiti eh nelle sue rappresentazioni tutto il mondo che le lei contiene è possibile e mh si può rendere eh visibile qui la vediamo appunto eh l'elefante e la farfalla venivano eh definiti lei così piccola e fragile lui così grande eh e possente eh anche qui vediamo Diego Rivera sulla destra in un ritratto e a sinistra vediamo eh uno dei celebri autoritratti di Frida dove eh il ritratto di Diego è proprio impresso sulla fronte eh sembra quasi che eh ci voglia dire semplicemente come Diego sia il il suo pensiero fisso eh che sia il suo punto di riferimento che sia l'uomo che lei chiamerà nonostante tutto nonostante i tradimenti nonostante le bugie e tutto quello che quest'uomo forse anche mh in maniera lecita ha vissuto eh sapendo di avere una compagna una moglie eh in quelle condizioni lì quindi bisogna forse anche pensare eh che al di là dell'amore c'erano anche delle condizioni che forse quest'uomo non era in grado di 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 sostenere e eh e forse in questa comprensione Frida ha amato quest'uomo fino alla fine proprio per questo eh proprio perché eh comprendeva la sua posizione e la posizione di di Diego e in questo rapporto che noi oggi definiremmo malato c'era sempre questo eh amore infinito tra i due qui li vediamo tra l'altro in una scena in cui Frida è a letto e ha questa eh questo cavalletto che le consente di dipingere e a fianco appunto vediamo la la figura di Diego. Io interrompo un attimo perché vi lascio alla visione di questo video dove vediamo delle immagini originali di Frida e Diego. Grazie a tutti. 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 Donaia non si è fermata davanti a nulla e ci insegna che non ci sono veramente limiti, lì dove vogliamo vivere e ottenere le cose che vogliamo. Grazie a tutti. 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 Perché a tutti. Grazie 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 a tutti. Involge talmente tanto che tutto il suo lavoro ruota intorno alla contrapposizione tra maschile e femminile. A volte queste figure, queste celle come le vediamo qui a sinistra contengono delle forme ibride e quasi organiche che ricordano queste protuberanze e quelle che possono essere palesemente degli organi genitali maschili o femminili. Quindi tutto ruota intorno a questa esperienza traumatica che lei ebbe da bambina, però nello stesso tempo queste forme organiche ci ricordano anche a un stretto legame che noi abbiamo con la natura. Qui vediamo uno dei suoi più celebri ragni che sono rappresentati in ferro e che troviamo anche fuori dal museo Guggenheim di Bilbao per chi ha avuto la possibilità di visitarlo. Il ragno, oltre ad essere una figura che potrebbe incutere terrore, spavento, paura per chi è anacnofobico, in realtà è una piccola creatura che crea delle tessiture. Quindi anche questo è legato al rapporto che poi lei instaurò con la madre che lavorava appunto nel campo del tessile. Mi piace sempre ricordare questa sua situazione perché dice Sono sempre stata affascinata dal lago e dal suo magico potere. Lago si usa per riparare il danno, è una richiesta di perdono. Vediamo come in tante sue opere, qui la vediamo nel suo studio, a destra vediamo una di queste sue sculture in marmo che con queste protuberanze ricordano degli organi maschili. Vediamo come il ricamo e la tessitura diventano un pretesto per poter creare delle figure ibride che denunciano anche la figura della donna violata. Vediamo a destra una figura che potrebbe sembrare un uomo ma anche una donna, quindi c'è una sorta di ritratto androgino con quello che potrebbe sembrare anche un feto all'interno di questo ventre. Quindi lei spazia attraverso l'uso di materiali diversi dal disegno all'installazione al ricamo per raccontare quelle che sono anche la paura e il dolore. E lo fa in assoluta libertà e producendo una quantità di opere incredibili. Sempre a che fare con il ricamo e l'uso del filo, vediamo un'artista egiziana, Gadamer, che denuncia un po' la condizione della donna nella società. è diventata uno dei must del nostro tempo, ovvero dobbiamo a tutti i costi sottolineare l'importanza che hanno le minoranze, perché devono essere riportate alla luce. La battaglia di Gadamer è quella di andare un po' contro questo femminismo di comodo, considerando che lei di origini egiziane lotta per l'emancipazione della donna in modo sentito e autentico. Lei utilizza l'ago, il filo e il ricamo come strumenti del focolaio domestico, rappresentando però su queste tele con assoluta libertà e senza nessun condizionamento quelle che sono immagini erotiche di donne che provano del piacere e sono assolutamente consapevoli dello strumento del corpo come strumento di piacere che non è legato solo ed esclusivamente al rapporto consumato con un uomo, ma che ci può essere questo piacere e questo raggiungimento del godimento anche attraverso il corpo stesso di una donna. Quindi provate ad immaginare la condizione in cui Gadamer cresce in un paese che sicuramente non ti permette di avere una libertà di espressione tale così come accade nel nostro occidente. Lei però riesce attraverso l'uso del ricamo e del disegno a restituirci queste rappresentazioni erotiche che sono esplicite ma non sono volgari. Nel senso che per quanto siano esplicite riesce in questa sovrapposizione di linee e di fili ad invitarci, ad immergerci in queste rappresentazioni perché noi possiamo accettarle, perché noi possiamo accettare anche la natura femminile da questo punto di vista, che non è assolutamente un tabù. Lo abbiamo già visto con Tamara, con Gertrude Stein, cioè sono cose che rientrano nella sfera naturale femminile e anche maschile. Anzi, a volte è prerogativa dell'uomo esercitare dell'autoreutismo e non direttamente della donna. Ci sono proprio due punti totalmente diversi rispetto all'argomento. Anche in questa scultura, la vediamo qui ritratta, in questa scultura dove anche qui dipende come giriamo intorno, riusciamo anche di intravedere noi queste fibre femminili che esplicitamente ci stanno restituendo un'immagine naturale di quella che è la nostra sessualità. Ed è proprio il linguaggio del corpo, quello che vedremo ancora con artiste della body art, quella che abbiamo visto in copertina appunto Gina Pane, che nella sua azione sentimentale del 1973 si auto-infligge dei tagli con una lametta sulle braccia. È in realtà un omaggio, un omaggio alle donne dove lei sta esprimendo solidarietà e dolore mettendo a disposizione di altre donne la sua sofferenza. Tant'è che durante questa performance lei invitava le donne a riunirsi in cerchio in alcune postazioni all'interno delle quali era scritto proprio la parola donna e di partecipare con lei a questa performance in modo tale che ricevessero questo dono che lei stava facendo. Questo dono che in realtà può sembrare estremo perché si sta appunto tagliando in parte e quindi sta infliggendosi del dolore che poi da lì a poco sarebbe comunque scomparso. Quindi mi sta facendo vedere come l'amore è un darsi libero, autentico e senza condizioni ma che poi ad un certo punto quando le ferite ed è anche un'azione dolorosa quella dell'amare e nel momento in cui queste cicatrici si richiudono l'amore rischia anche di scomparire. Qui vediamo l'altro esempio è quello di Rebecca Horn ed è un'altra artista che ha sicuramente utilizzato il suo corpo attraverso questi prolungamenti per restituirci un altro linguaggio dell'arte contemporanea spesso per molti anche a suo tempo non comprensibile. vediamo qui una delle sue performance più famose dove uno dei suoi prolungamenti era una maschera con delle matite che le consentiva di tracciare dei segni su una parete e quindi il movimento le consentiva di tracciare un segno grazie ad un prolungamento. lei è una delle artiste insieme a Gina Pan e Orlan di un uso totalmente nuovo del corpo che occupa uno spazio e soprattutto che agisce in un'azione performativa. Qui vediamo Cindy Sherman, vediamo come nella logica del ritratto ci sia una trasformazione totale del soggetto e dell'artista stesso e l'apice lo raggiunge quest'artista francese Orlan che proprio per denunciare la trasformazione di plastica della bellezza o del nostro corpo fa sì che il suo corpo diventa l'opera d'arte, diventa scultura e lo fa attraverso il video, la fotografia e attraverso le sue azioni lei denuncia quello che è uno strumento come Photoshop o uno strumento artificiale come la chirurgia possa modificare il nostro corpo perché dobbiamo aspirare a un modello ideale un modello ideale che in realtà non esiste. Lei si spinge all'estremo perché per poter fare queste modifiche e poter far diventare il suo volto sempre un'opera d'arte diversa si sottopone a degli interventi chirurgici all'interno del quale le inseriscono cioè nel quale le inseriscono sottopelle delle protuberanze che appunto le fanno modificare la forma del volto. Lei è in anestesia totale quindi è cosciente durante questi interventi che se siete curiosi potete anche vedere su internet e lei semplicemente utilizza il proprio corpo per poter esprimere una denuncia non lo fa attraverso la pittura attraverso la scultura così come Gina Pane decide che è il suo corpo essere il materiale per l'opera d'arte. Per quanto riguarda invece un linguaggio che non è prettamente occidentale vi presento quella che è una delle più grandi artiste iraniane degli ultimi anni che è Sheen Neshat lei vive nel periodo di passaggio della rivoluzione iraniana quindi riesce a vivere contemporaneamente i due momenti dell'Iran fino a quando appunto non avviene la rivoluzione e lei si trasferisce negli Stati Uniti dove entra a contatto con l'arte occidentale in tutto il suo lavoro attraverso la fotografia e la scrittura ribadisce come non è necessario dover specificare a tutti i costi in maniera retorica che le culture medio orientali sono meno libere di quelle occidentali e di come in realtà la nostra libertà anche dal punto di vista femminile ha dei limiti anche nella nostra cultura e non solo esclusivamente Evidentemente c'è stato un sabotaggio a questo punto mi viene da dire legato a temi caldi o magari scomodi e quindi Zuckerberg ha deciso che non era il caso di esporli pubblicamente questa sera speriamo che sia così dimmi tu Thomas se abbiamo il tempo per poter raccontare velocemente Marina Abramo oppure vogliamo aprire le domande dei nostri telespettatori Il tempo l'abbiamo senz'altro cioè non penso che sia di problemi Ok, allora provo un attimo a ricondividere la presentazione e vediamo in primo piano la nostra Marina Abramo come mi dicevi tu eravamo rimasti a Shilin Eschat che ci restituisce questa immagine della donna medio orientale occidentale senza grandi differenze denunciando un po' questo femminismo di comodo come lo definisce lei nel dover determinare a tutti i costi che le donne medio orientali vivono peggio di noi o viceversa quindi vediamo anche come nella nel linguaggio di Marina il concetto di corpo che occupa uno spazio il corpo che diventa il materiale la materia prima dell'opera d'arte che occupa uno spazio che lei definisce lo spazio performativo lo spazio della performance riunisce tutte quelle che sono le donne che abbiamo raccontato questa sera una donna assolutamente indipendente che sin dall'inizio ha saputo quello che voleva fare nella vita mi viene da dire dopo aver letto la sua biografia che è una rivendicazione anche nei confronti della madre che essendo una persona molto rigorosa molto formale non ha mai ritenuto quasi un po' disprezzando gli inizi appunto gli interventi performativi di Marina il linguaggio corporeo della figlia e soprattutto che facesse l'artista che comunque si esponesse così tanto al pubblico non so quanti di quelli che ci stanno ascoltando che sono rimasti conoscono l'opera di Marina Bravontic che trova già negli anni 70 con la body art e la performance delle espressioni totalmente nuove anche lei come nel caso di altri body artist utilizza il corpo portando all'estremo e quindi conducendo al limite della soglia del dolore del dolore il proprio corpo per sperimentare sul campo su quello che è lo spazio performativo e coinvolgere soprattutto gli osservatori coinvolgerli non passivamente come coloro che fruiscono e quindi sono spettatori della performance ma sono i protagonisti lei diventa un oggetto riporto qui un video che ancora oggi fa molto potrebbe far molto discutere eppure questa performance una delle sue prime performance del 1974 che fu messa in scena in una galleria di Napoli tra l'altro quindi provate di immaginare la Napoli degli anni 70 dove un artista serba si propone come oggetto sulla quale chiunque è libero di infierire su di lei ecco qui nel documentario si parla di oscurità nel senso Marina spinge i presenti quindi gli spettatori a mettere in atto quelle che sono delle azioni nei suoi confronti nei confronti di se stessa del proprio corpo per dimostrare quanto ognuno di noi contenga un lato oscuro e che se invitato a compiere delle azioni anche estreme se ci sono le condizioni per poterlo fare noi lo facciamo quindi vediamo qui in questo documentario che cosa succede nel 1974 però noi non vediamo niente Angela scusa non vedete niente fantastico in questo modo riuscite a vedere la diapositiva no secondo me non stai condividendo ok è caduta la connessione quindi noi ci scusiamo di nuovo ok ok scusate di nuovo quindi parlando sempre di Marina questa è l'immagine di questa performance e adesso vi riporto al documentario che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.